I cimbali, sentite? Allora, cosa sono i cimbali? Lo sa? Dica. Anche loro mi sopportano da qualche anno e ormai mi ha sperso le speranze. Ecco, i cimbali sono questi attrezzi, ecco, e sono tipici del funglo regiziano. E sono un po' difficili da suonare, dopo verrò a prendere un volontario che voglia imparare. Tipo lei che prima diceva di non essere omofobico, dopo si prepari che... Non c'è problema, va bene. Anche loro mi sopportano da qualche anno e ormai mi ha sp roastito. E cimbali sono i cimbali sono i cimbali che voglia imparare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.